Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Vi riferiremo circa una notizia appena appresa dai media, che ha destato non poco sgomento tra la popolazione e in una intera comunità. Andiamo a vedere i dettagli dell'accaduto. Quella che doveva essere una giornata di relax si è invece trasformata in un bruttissimo caso di cronaca che ha interessato una piccola bambina di 11 anni. Si tratta di Olivia Knighton, figlia maggiore dell'ex portiere di lunga data della MLS, il massimo campionato di calcio per Stati Uniti e Canada, Brad Knighton. Secondo quanto si è appreso dalla stampa nazionale la bambina si trovava su una barca, quando all'improvviso alcuni componenti del natante sono stati sbalzati in acqua a causa di un'onda provocata da un altro motoscafo che è passato vicino all'imbarcazione. A bordo della barca dove viaggiava la bambina c'erano altre 12 persone. Il sinistro in questione si è verificato a Little River, località costiera situata in Carolina del Sud. A seguito dell'onda provocata dal motoscafo la barca si è ribaltata, facendo finire in acqua 11 dei suoi occupanti, bimba inclusa. Le altre 10 persone finite in mare sono rimaste illese, mentre la bambina pare sia stata risucchiata e colpita da un'elica, che le ha provocato danni che le sono stati fatali. Per la piccola Olivia non vi è stato quindi nulla da fare, in quanto ha perso la vita sotto gli occhi esterrefatti delle altre persone. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, potranno conoscersi eventuali dettagli circa questa situazione che ha interessato la famiglia Knighton.